Come consuetudine, per il periodo pasquale la radio televisione della Svizzera italiana propone una produzione di musica sacra. Quest'anno è dedicata ad un'opera quasi sconosciuta del compositore di origine pugliese Luigi Rossi, compositore che molti ricorderanno per il suo Orfeo, che fu la prima opera italiana eseguita in Francia. Nel concerto spirituale che presentiamo questa sera, registrato nello splendido tempio di Santa Croce a Riva San Vitale, potrete seguire l'oratorio per la settimana santa, nell'esecuzione del coro e dell'ensemble barocco della RTSI, posti sotto la direzione del maestro André Ducré. Prima però di lasciarvi alla musica, vi ricordiamo che alle 22.05 andrà in onda TG Sera. Seguirà ingresso libero, con un'intervista dedicata allo scrittore ligure Sergio Quinzio. Giovedì Sport è previsto per le 22.55, mentre alle 22.50 prossimamente Cinema informerà sugli spettacoli in programma nella Svizzera italiana. Giungeremo così alle 24 per un telefilm con la simpatica famiglia dei I Mostri. Ed ora, musica e musica! Ed ora, musica e musica! Ed ora, musica e musica! Grazie a tutti! 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 Flegi tonte, di coccino sulle sponde, si giocose, tre sbalone, si vetranno, e quando mai, e quando mai? Flegi tonte, di coccino sulle sponde, si vetranno, e quando mai? Flegi tonte, di coccino sulle sponde, si vetranno, e quando mai? Flegi tonte, di coccino sulle sponde, si vetranno, e quando mai? Flegi tonte, di coccino sulle sponde, si vetranno, e quando mai? Flegi tonte, di coccino sulle sponde, si vetranno, e quando mai? Flegi tonte, di coccino sulle sponde, si vetranno, e quando mai? Flegi tonte, di coccino sulle sponde, si vetranno, e quando mai? Flegi tonte, di coccino sulle sponde, si vetranno, e quando mai? Flegi tonte, di coccino sulle sponde, si vetranno, e quando mai? Flegi tonte, di coccino sulle sponde, si vetranno, e quando mai? Flegi tonte, di coccino sulle sponde, si vetranno, e quando mai? Flegi tonte, di coccino sulle sponde, si vetranno, e quando mai? Flegi tonte, di coccino sulle sponde, si vetranno, e quando mai? Flegi tonte, di coccino sulle sponde, si non eccla勝利na c'è, Tormenti non più, non più Tormenti non più, tormenti 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 non più Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.